Questo brano musicale è un brano musicale che è proprio un ragazzo generoso, siamo coetanei, è vero, abbiamo 21 anni tutti e due. E questo brano è, allora, io in realtà mi lanto il fatto di scrivere canzoni, queste sono tutte canzoni norvegesi e questo è un brano che è un brano degli anni settanta di un gruppo norvegesi che si chiamava Nurgharto ed è un brano tristissimo, grazie. Esiste ancora il sentimento delle cose, mentre noi amiamo controllare tutto, la nostra vita e pensieri degli altri, la morte, non amiamo neanche il pane che mangiamo. Esiste ancora il sentimento delle cose, il luogo agli alberi, le case, i sassi. I nostri sogni, le tv a colori, le navi senza radici e siamo stupidi a pensare di essere soli, senza più limiti, senza più colori, mentre noi siamo intesi a moltiplicare tutto, noi siamo intesi a moltiplicare tutto, noi riusciamo a considerare che le nuvole ci guardano e i mari ci controllano. Ho visto i platani parlare con le antenne e subito il vento caldo confermare tutto, io lo so che i treni di radici scambiano segnali in codice e ho sentito nettamente i cani vi sviare. Ma è possibile che mentre dominiamo tutto, ricostruiamo tutto e distruggiamo tutto, noi perdiamo la memoria e non ne sentiamo la mancanza e intanto i pesci continuano a nuotare. Quanti libri nell'acqua per non affogare, mentre noi siamo intesi a moltiplicare tutto, noi siamo intesi a moltiplicare tutto, noi non riusciamo a considerare che le nuvole ci guardano e i mari ci controllano, le piante si difendono e i libri ci feriscono perché manchiamo della necessaria dignità. E poi un camion mi ha parlato del silenzio e ho visto un libro che stracciava banconote, un servo muto che adorava una voce. Le nostre armi stanno architettando un ammutinamento generale, ma a questo impero ne succederanno tanti, sempre più crudeli, ancora più eccitanti, ma forse allora i sentimenti delle cose ci chiameranno, ci sveleranno tutto e forse ci reinsegneranno lo stupore. Grazie.